10 5 4 3 2 1 andiamo 2 80 sacrifica destra 4 più tutta la strada 60 via andiamo 3 bra a sinistra 1 gira 30 tornante destro 50 tutta la strada destra 5 credi no stiamo al centro per ritardo a cartello sinistra 6 piena 50 sfiora sinistra in sacrifica destra 5 meno tieni subito sinistra 3 tieni avanti con le staccate in destra 4 vai via via 30 sinistra 3 più 60 dentro e poi andiamo ritardo a destra 5 al cartello chiude 4 tieni andiamo avanti subito sinistra 3 più in destra 4 lascia subito destra 4 più vai pieno 70 cartello sinistra 4 lascia per ritardo sinistra 1 leva avanti 30 sinistra destra 5 no in destra 4 più 30 destra 4 più tieni per ritardo sinistra 3 più chiude poco l'ho attaccato qui 60 sinistra 5 crediamoci in destra 5 lascia via via andiamo andiamo per destra 4 più lascia via 50 Ray l'anticipa sinistra 3 più per sconnessa sinistra 5 in destra 6 per Ray l'anticipa lunga tieni apra il palo andiamo in tornante destro 50 dopo dosso destra 5 in sinistra 6 30 destra 4 lascia 50 via destra 4 tieni sporca no in sinistra 1 apre 3 30 sinistra 5 meno tieni in sconnessa destra 5 più sta a sinistra 40 sta a sinistra sacrifica e tieni sinistra 5 diventa sconnessa 4 tieni per tornate a destra o no 50 sinistra 3 tieni in destra 2 più lascia 30 30 destra 5 per sinistra 3 sconnessa fine destra 5 50 cartello sinistra 1 via via fine destra 5 condosso per destra 3 meno no per sinistra 2 meno meno subito destra 4 per sinistra 4 più subito destra 3 sporca per destra 4 più tieni sporca per tornantino destro no 30 destri tornantino sinistro deciso per ritardo sinistra 3 più tieni subito tornantino destro deciso in destra 3 per tornantino sinistro vai avanti un po' velocità velocità 40 sinistra 4 chiude 2 rosso subito destra 3 meno subito sinistra 3 vai per sinistra 5 40 sconnessi muro destra 4 butta fuori per 3 sinistra 3 meno no per tornante destro torrentino destro porta velocità 80 si è per ritardo a poco destra 4 più aspettano un pelo 80 via tornantino sinistro subito destra 4 più sinistra 5 meno lunga 60 destra 6 per sinistra 4 lunga tieni subito tornante destro per destra 5 per destra 4 lunga chiude poco bello attaccato per sinistra 5 subito destra 5 40 destra 3 più tieni in sinistra 3 più subito destra 4 più vai 80 vista via via giù tutto provisciò provisciò destra 5 in sinistra 3 2 tempi più del secondo in destra 4 meno via per sinistra 5 meno giù 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 in destra 5 40 ritarda sinistra 4 più spettola un po' per destra 3 lunga lascia va di portare fuori eh subito destra 3 vai 100 di riscompone alla staccata sinistra 1 più lunga tira 100 sinistra 5 più vediamoci eh subito destra 5 in sinistra 6 lunga tieni subito destra 1 gira in sinistra 5 vai in destra 5 più vai 150 andiamo avanti con la staccata qua muro sacrifica destra 5 tieni subito sinistra 2 quando siamo dentro poi andiamo al sinistra eh 40 via via destra 2 meno no in ritardo da molto palo sinistra 3 quando si ha il palo dentro eh 80 via albero destra 3 più per sinistra 5 in destra 5 in anticipo sinistra 4 più per sinistra 1 gira via per ritarda aspettala è questa cartello destra 3 per sinistra 2 6 57 buona bravo Walter 1 3 2 4 5 6 6 11 12 7 8 11 8 10 11 11 12 11 13 Grazie a tutti. Grazie a tutti.